Te possiamo chiederle appunto qual è il valore della festa della mamma ancora oggi? Il valore della festa della mamma penso sia universale e importantissimo. Poi qui abbiamo una mamma coraggiosa, è il primo caso in Italia, quindi un parto di questo tipo con delle problematiche come aveva questa mamma. È una famiglia bella, serena, giovane, con due gemelli assolutamente bellissimi, a cui faccio i miei migliori auguri, che sia la festa di questa mamma in particolare, ma di tutte le mamme, ricordarlo in questo periodo dove ci sono tante difficoltà e anche tanti aspetti internazionali brutti, penso sia una cosa importante. Grazie Grazie